Ciao ragazze, oggi aprirò con voi l'undicesima casellina del calendario dell'avvento di Essence sono molto contenta di aprirlo con voi perché comunque vi sto mostrando un sacco di prodotti che sto trovando all'interno di questo calendario, molti prodotti sono di makeup perché come sapete non tutti sono di makeup, alcuni sono dei pensierini tipo una volta ho trovato degli elastici ho trovato anche altre cose che comunque non sono prettamente di makeup pur essendo una marca di makeup e niente, oggi aprirò appunto la frasilina numero 11, vi leggerò la frase all'interno che c'è perché c'è sempre una frase molto carina e vi farò vedere il prodotto la frase di oggi dice, be the twinkle in santa sky praticamente è un glossy kiss, quindi un lip balm per le labbra qui dice cherry kiss, quindi ha il sapore di fragola dentro ci sono 8 ml di prodotto e 24 mesi di pow e il numero 04, come sempre credo che ci sia comunque anche edizione permanente non ho mai utilizzato di questi perché comunque utilizzo un burro cacao perché comunque non utilizzo quasi mai dei lucida labbra più che altro uso dei rossetti liquidi, dei rossetti normali diciamo che questi che sono leggermente colorati non li utilizzo, al limite utilizzo solo un burro cacao se proprio non devo colorare le labbra questo non so se colori, cioè sicuramente qua si vedrà un pochino ma sulle labbra non si vedrà praticamente niente infatti questo colore è molto chiaro, così il rosso adesso lo utilizzerò perché comunque l'ho acquistato e voglio provarlo ha un profumo che dà più su della marena che non sul fragola fatemi sapere se voi comunque li avete mai acquistato, di questi come vi trovate perché magari se è un prodotto top posso anche acquistarlo è molto carino questo perché ha tutti questi disegnini sul Natale come tutti gli altri prodotti che sto trovando fatemi sapere comunque voi cosa pensate di questi prodotti se vi stanno piacendo, se vi piace l'idea di aprire con voi giorno per giorno questo calendario se voi fate qualche calendario come sempre scrivetemelo giù se fate i video mettetemi giù il link sicuramente lo guarderò e a domani, ciao!